Salve a tutti e benvenuti su una nuova puntata di Noto in Pillole Nel video precedente abbiamo visto come è possibile creare una serie di rotte per fornire e manipolare una risorsa dinamica in quel caso abbiamo simulato la risorsa attraverso l'utilizzo di un array nel codice infatti avevamo creato una variabile utenti che non è altro che un array di hash dove ogni hash simulava un utente il difetto di questa implementazione è che ogni volta che noi riavviamo il server naturalmente la lista di utenti verrà rinizializzata con i valori di default quindi diciamo che non abbiamo una persistenza per quanto riguarda i dati ora è possibile realizzare la persistenza scrivendo questo array in un file ma ho intenzione di mostrare in realtà come è possibile utilizzare un DB per fare la stessa cosa il tipo di DB che vi vado a presentare è Redis Redis è un DB che implementa il concetto di accoppiata chiave valore quindi non è altro che una chiave in questo caso una stringa con associato un valore che può essere una stringa un hash, una lista, un set o un set ordinato la peculiarità di Redis è data dal fatto di essere molto veloce molto veloce perché mantiene i dati nella memoria volatile quindi in RAM questo è anche un difetto perché logicamente tenendo tutto il DB in RAM all'aumentare del DB aumenterà anche la RAM occupata e quindi dovremmo valutare bene quanti dati mantenere in questo DB altro svantaggio è il fatto che la memorizzazione dei dati viene, diciamo la persistenza vera e propria, se così possiamo chiamarla viene effettuata facendo delle copie del DB di tanto in tanto sull'hard disk quindi nel caso di crash, nel caso di problemi l'ultima porzione di dati inseriti potrebbe non essere stata salvata se non è stato fatto nell'immediato uno snapshot quindi un salvataggio su disco comunque per farvi il primo esempio basta e avanza Redis cosa dobbiamo fare per utilizzare Redis? la prima cosa che dobbiamo fare è installare Redis sulla nostra macchina io lo faccio tramite il mio packet manager della mia distribuzione voi potete seguire le istruzioni che vi sono nella voce download della pagina di Redis che è Redis.io come potete vedere qui ora, una volta installato Redis dobbiamo avviare il server Redis e lo facciamo, io lo faccio sempre con gli strumenti della mia distribuzione ok, il server Redis è partito come possiamo vedere se Redis è installato correttamente e se sta funzionando lo stesso Redis ci mette a disposizione un client da linea di comando che si chiama Redis Cli quindi utilizzando Redis Cli possiamo vedere che ci siamo appena connessi al server Redis che è in ascolto sull'interfaccia di loopback della nostra macchina e sulla porta 6379 porta di default per quanto riguarda il server Redis ora vorremmo muoverci da qui e magari dare qualche comando come vediamo se noi diamo help ci consiglia di utilizzare il tab per ottenere la lista di tutti gli help topics quindi un help con il tab possiamo scorrere su che tipo di topic vogliamo l'help questo è un modo per ottenere la lista di comandi io consiglio in realtà di andarvi a vedere la lista di comandi direttamente dal sito per prima cosa andate sul punto menu comandi e trovate soluzionato la voce nel sottomenu all quindi vi farà vedere tutti i comandi è un po' afforviante andiamo un attimo sulla voce key la voce keys ci permette di vedere tutti i comandi che riguardano le chiavi quindi se volessimo vedere se vi sono in questo momento chiave all'interno del DB dovremmo usare il comando keys con il pattern da cercare quindi se io adesso digitassi keys e il pattern usassi l'asterisco dovrei trovare tutte le chiavi in realtà ciò che mi viene istituito è appunto che non c'è nessuna chiave volendo inserire una chiave dovrò andare a fare la ricerca che voglio all'interno del sottomenu col tipo di valore che voglio associare a tale chiave ad esempio stringa oppure ashes oppure lista eccetera 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 se voglio utilizzare stringa mi basterà utilizzare il comando append seguito da chiave e valore quindi se volessi aggiungere una stringa dovrei utilizzare append seguito da una chiave non lo so, utente 1 seguito dal valore luca perfetto quindi in questo momento sembra dal risultato che qualcosa sia avvenuto se vi provo a dare il comando keys vedo effettivamente che c'è un utente 1 quindi una tupla composta da una chiave come faccio a vedere nel valore basta che uso get che dice appunto get chiave per ottenere il valore di una chiave quindi tornando di nuovo di qua provo a fare get di utente 1 e vedo che il valore è luca ma passiamo a tutti gli editi più interessanti di questo db vediamo magari come inserirlo, utilizzarlo con express per uscire da questo editor usiamo exit sono all'interno del progetto che avevamo fatto nella puntata precedente ne faccio una copia entro all'interno della copia e la cosa che devo fare è abilitare questo progetto all'utilizzo di Redis come facciamo con Node.js a collegarci a Redis andiamo sempre nella pagina di Redis sulla voce clients e scorriamo finché non troviamo la sezione dedicata a Node.js l'ho passata senza vederla eccola qua e qui ci viene consigliato un client che si chiama Node.eredis da installare all'interno del nostro ambiente andiamo su Repositori e vediamo che per utilizzarlo basterà dare un npm install Redis nulla di particolare sappiamo già che cosa fa sotto in realtà ci viene anche detto che se noi utilizziamo diciamo installiamo oltre a Redis High Redis potremo usufruire di questo client nativo in C che dovrebbe essere più veloce dell'implementazione semplice in JavaScript io personalmente utilizzerò il secondo approccio quindi all'interno del nostro progetto darò npm install High Redis e Redis aspettiamo che questi due componenti vengono installati ok adesso andiamo ad editare il nostro progetto vediamo ok non è questo ma è quest'altro e cerchiamo di capire come è possibile utilizzare Redis all'interno del codice se scorriamo ancora la pagina del client Redis troviamo tutte le informazioni che ci servono quindi dobbiamo prima di tutto fare il require del modulo Redis dopodiché creare un vero e proprio client e da lì in poi possiamo utilizzare i comandi che ci vengono messi a disposizione allora proviamo subito prendiamo questi due comandi andiamo nel codice e per prima cosa Redis e richiediamo il modulo Redis client uguale a Redis punto create un attimo che non mi ricordo come è la sintassi create client ok mi ricordavo bene quindi è client uguale Redis punto create client e in questo momento dovremmo esserci collegati al nostro Redis proviamo a dare un semplice comando all'avvio della nostra applicazione per vedere se tutto ciò ha funzionato come facciamo semplicemente in fondo prima diciamo anche dopo di questo console log prima quando volete proviamo a fare un'interrogazione al server Redis chiedendo tutte le chiavi per fare una cosa del genere basterà utilizzare presuppongo il comando keys con le dovute diciamo i dovuti argomenti quindi ciò che io faccio è utilizzare client punto case mi passo il pattern asterisco e il risultato devo farmelo stampare da una callback e posso utilizzare Redis sprint che è una callback che viene messa a disposizione di default dal client ciò che effettivamente viene fatto anche nel codice di esempio avviamo al volo il nostro server e vediamo che la risposta alla nostra chiamata è la chiave che abbiamo nel nostro DB per questa volta è tutto vi ho fatto vedere come installare Redis vi ho mostrato che esiste un client da riga di comando sapete dove trovare i comandi per giocare con Redis cioè li avete nel menu commands all'interno della pagina di Redis direi che per ora potete giocare un pochettino col server provare a vedere se funziona vi ho fatto anche vedere come integrarlo all'interno del codice era una cosa sufficientemente semplice però diciamo va comunque fatta giocateci un pochino e come mi hanno sempre detto get your hands dirty quindi sporcatevi un po' le mani e poi la prossima volta vi faccio vedere come trasformare questo progetto per utilizzare Redis ciao a tutti alla prossima